idea la trasmissione di r tv 38 che vi segnala gli eventi più interessanti e degni di nota della nostra regione iniziamo subito con alcuni appuntamenti da non perdere al teatro di rifredi di firenze in scena alpenstock del drammatologo francese remy devos vediamo quali sono gli altri eventi in toscana palazzo strozzi a firenze ospita la mostra nascita di una nazione tra guttuso fontana e schifano altre idee per questo fine settimana al cinema la commedia contromano di e con antonio albanese è tutto alla prossima puntata di idea la toscana da vivere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti